I cacciatori sono molto abili, i cacciatori sono particolarmente abili, hanno un know-how che gli consente di individuare delle false pareti, dei possibili passaggi da arrivare a scoprire, dei passaggi di cui è piena la storia, è uscito anche un carabiniere del ROS che è un problema di senza molto per motivi di sicurezza. Ti stavo dicendo, è il terzo copo, quello scoperto ieri sera dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Scusate per favore, per favore, non potete entrare, no no, un attimino, non potete entrare, per favore fuori. Scusate, questo è sempre da qualche attività. Potete allontanare un attimo? Scusate, scusate, per favore fatemi lavorare. Dentro, no, per favore. Mettiti qua, va. Mettiti qua, è sicura, sentite. Ok. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.